Preso atto delle diverse segnalazioni pervenute agli uffici comunali da parte dei cittadini, il sindaco Giovanni Moscati invita in queste ore ad un consumo razionale dell'acqua, evitando soprattutto gli sprechi del prezioso liquido. In questi pochi giorni successivi al mio insediamento, affermato Moscato, ho potuto constatare una situazione disastrose e pericchio difficile del settore. In poche ore abbiamo fatto fronte comunque ad una vera e propria emergenza dopo le centinaia di segnalazioni ricevute e con diverse zone totalmente senza acqua. Abbiamo quindi provveduto a tamponare dove era possibile infianto l'autobotte, ma mettendo in funzione altri due mezzi rimasti inspiegabilmente fermi per anni. E questo perché abbiamo ereditato una situazione particolarmente difficile, continua Moscato, ma stiamo lavorando intensamente per ripristinare la normalità. Il primo cittadino ha anche spiegato che si è provveduto a riorganizzare gli uffici competenti e il sistema di segnalazioni, con una scaletta di interventi precise con un cronoprogramma che segue l'ordine di arrivo delle richieste dei cittadini. Moscato, anche ringraziato gli stessi vittoriesi per la collaborazione dimostrata, invitandoli in un periodo così delicato ad eliminare gli sprechi e a razionalizzare i consumi di acqua e questo, ha detto Moscato, per non ripiombare nell'emergenza.